Ciao, vi saluto a tutti. Sì, buon Natale a tutti. Vi saluto. E il 25 dicembre... Buon Natale. Aha. Questa sera alle ore 21 faremo una trasmissione. Heute abend, sendung? Um 21.00 vorrei faremo una trasmissione con voi. Vogliamo faremo dei regali. E' una trasmissione trasmissione. Però noi accettiamo solo regali veri, non quelli falsi, quelli autentici. Quindi ci regaleremo soltanto quello che ci appartiene. Quello che ci appartiene va nel profondo e creiamo un campo dove verrà capito e accettato. Questo ti renderà felice. E' una trasmissione trasmissione. 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 E' l'amore, l'amore, l'amore. Amore, l'amore, l'amore. Ecco. E' l'amore. L'amore, l'amore. ist, auch, das, liebe ist, auch, vielleicht habt ihr den Impuls, was Besonderes oder was Spezielles aussprechen zu wollen, was euch schon länger auf dem Herzen liegt und was ihr euch bisher nicht getraut habt, oder, Sabine, vuole dire qualcosa? Nochmal, kurz, kürzer, vielleicht habt ihr den Impuls, forse volete dire stasera qualcosa di importante che dà molto tempo nel vostro cuore quello che vi dà può aprire nuove porte, nuove finestre che vi dà un po' più di spazio anche questo è amore io, Sabine regala amore, Sabine schenke liebe io regalo il regalo che faccio, comincio già a fare adesso è la neutralità è un concetto svizzero ma la neutralità è molto importante adesso was io schenke, oggi e oggi abendio, vero, è che sia la neutralità neutral sein è un giocatore, con la sua significazione non mai mai capire come la Schweiz è un po' più importante in questa fase e Sabine pensa sempre sempre amore Sabine parla sempre dell'amore non penso, non sarebbe il vero non devo pensare ok ancora qualcosa? mi piacere, mi piacere a te Sabine contenta e contenta che stiamo insieme è un regalo essere insieme saluti e baci ci sentiamo alle ore 21 live su GTV bis heute abend 21 ure siete con noi e vi beschenco uns gegenseitig bis dann ci regaleremo va bene, ciao grazie a tutti